Articolo 1 della Costituzione L'Italia è una repubblica fondata Sulla raccomandazione Laura master La specializzazione Nessuna prospettiva Nessuna occupazione Peccariato o illegalità La sola alternativa per questa società Che cosa mi aspetti da un paese già morto Con cazzo protesto Con cazzo rimosto Uno Stato mi fila Che mi nega il soccorso Yeah, Italian Yeah, Italian Yeah, Italian Job Devi lavorare per vent'anni a nero Solo allora sarai un italiano vero Ubbidire e sottostare Accetti il ricatto, ti fai licenziare Cosa che spetti da un paese già morto Con cazzo protesto Con cazzo rimosto Uno Stato mi fila Che mi nega soccorso Yeah, Italian Yeah, Italian Yeah, Italian Job E su cosa vuoi fare Aspettare Sperare O tirare a campare Se l'ingranaggio Un meccanismo Questo nuovo E lo sceno Capitalismo Gente che si da fuoco Per disperazione Il figlio come liberazione Ed è la più totale indifferenza Siamo in barriere di poteri Senza coscienza Non c'è più tempo Per aspettare O credere che andrà meglio Basso un po' basso Ci va verso il collasso E senza lavoro E senza pensione Aspetteremo il momento Dell'implosione